Paolo ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo, per maturare la convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti. Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a vivere ogni prova sostenuti dall'energia della fede e ad essere sensibili ai tanti naufraghi della storia che approdano e sausti sulle nostre coste, perché anche noi sappiamo accoglierci con questo amore fraterno che viene dall'incontro di Gesù. E' questo che salva dal gelo dell'indifferenza e della disumanità.